Ciao a tutti ragazzi, sono Benna e benvenuti in questo nuovo episodio di GTA V Oggi come vedete qua c'è la pulizia perché Comunque, dallo scorso episodio Poi sono rientrata, ero Michael, sono passato a Trevor e Trevor era ricercato E allora adesso sto un po' fuggendo, ecco Ecco, sono fuggito Allora, praticamente oggi si va a fare la missione In teoria è una delle missioni un po' diciamo più importanti del gioco Perché in teoria, se tutto va bene, se mi ricordo bene, è quella dove Comunque Trevor va a fare visita a Michael E vi lascio indovinare un po' a voi quello Che succede? Non so perché Sento Oh, oh, oh Va bene, John spento il fire ovviamente Sandy Shores Ah ma qui c'è qualcosa che mi... Bah, ecco perché fa così fatica Andiamo di Trevor Spero che mi faccia anche una dormita, almeno venga il giorno No, non parli di niente, su, pobre Wade Sì, forse è questo Rimpattegato Sì, stavo a vedere, non fidarti, non fidarti Ho, 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 ho Oh, oh. Sì, proprio lui ce lo dice Amanda? Occio, occio, sta attento Ecco Bello che c'ho scritto tipo sul collo catigliare Comunque a 500.000 euro qua, Trevor Eh, ah vabbè adesso non me lo dici Eh, ci dobbiamo comprare il gelato Aspetta, devo guardare qui Se guadagniamo, perdiamo, come sempre Beh ragazzi, se la macchina è ancora rotta Mi perdonerete se uso il trucco per aggiustarla Anzi, no, non usiamo questo Ma usiamo questo Ok, non lo faccio più Si mette anche a piove Ah, guarda, perché dove ero Ero già girato giusto Non so se anche questa Dividerla in due parti perché mi sa che è ben Ben lunga, se non erro Non ho mai diviso In parti un video io Cioè Un video In parte 1 e poi uno in parte 2 Penso sia stata La scorsa puntata l'unica volta che l'ho fatto Perché Non penso di farlo più Guarda qua che va l'illuminazione Perché comunque, non so Ben di lampi, mai visto Mamma mia ragazzi, non ci vede niente eh Ok Io ragazzi, se vi devo dire la verità Prima pensavo, ma come farò senza Cioè Eh, quando dicevo Ah no, forse Forse non andiamo da mai Andiamo qua Dicevo come farci a leggere i sottotitoli che Poi video e invece poi tipo Io vabbè non dico di essere Bravissimo con l'inglese Però Ma riesco a capire abbastanza quello che dicono Anche senza leggere Mi sa che ora Facciamo tipo di nuovo la strage Piazza le bombe adesive Uh, bello ragazzi Eh, in teoria Una è questa Ok Poi Mettiamoci una data Corruttiva Ah, sono là Quindi Non mi sgamano Ok Ok Cerchiamo di non farci sgamare Camminiamo Anche piano qua Dove ci sono St'apertura Ok In teoria Eh, bello Ma qui Qua stiamo girando un po' Tanto lo scoperto Eh, ragazzi Ok Non so di preciso dove andare a passare Adesso devo dire la verità C'è un po' di casino Oh, oh, oh Eccoli là Io in teoria qua dietro Ho via libera Oh, no Beh, forse sì Sì, però muoviti Trago Oh, oh, no Eh, mi sa che ora abbiamo fallito la missione Mi sa proprio di sì Trago è morto Perfetto Va bene Ok Bisogna trovare un'altra strategia Proviamo a partire da di qua Eh, non so Direbbero proprio St'amissione non so se c'è un modo logico per farlo E va a fortuna Perché lì potevo passare in quel momento Che loro erano girati a Mazzare il calcio a quello, eh Sì, ma hai già detto Sì, beh Cavolo qua dietro Non mi mette a fuoco Come faccio vedere a fuoco, così? Beh, io provo a passare da dietro le decisioni a vedere cosa succede Tutto di nato posto Beh, posso andare giù di qua No Possiamo passare i larghi, larghi Proviamo Quelle brutte sono al centro Alla, davvero non so come arrivarci Uno di girare Sì, è una missione dove ci vuole molta calma Bene, ok Non è questa, è la prossima Quello no, sembra di sì Ma vai, no No Rimani in modalità Ok, vai, tre Passa veloce, veloce Ok Cavolo là dentro Poi la vedo dura andata Allora, se falliamo qui dobbiamo rifarti un'ora di missione E non è proprio quello che voglio Qui falla, devo tirare quella alla grande Vediamo se ci arrivo Sì, mi sono fatto arrivare Vediamo se faccio qualcuno Per caso, no Eh, rimane quello in mezzo ragazzi Come ci arrivo là io Senza farmi sgamare Arrivarci sarebbe anche facile Senza farmi sgamare Brutto Oh, oh, oh Aspettate, aspettate Che io mi faccio una corsetta di qua No, aspetta Non me l'ho attaccato Ora sì Entra qua Ah, non mi ci fa entrare Oh, oh Allora Con calma La roulotte in teoria Una che è gigante, sembra Tutto un pezzo Sì Quindi Io dovrei arrivarci anche senza Allora, mettiamoci qui dietro Aspettiamo che se ne vada qui O forse non se ne va Così Non l'ho presa Vai, ora prego Vai Oh, nasconditi Vai, salta dentro Eccola lì Uh, guardate ragazzi Che disastro Dai, mi sa che qua ci conviene Dove che cavolo è, Wade? Qua mi sa che... Ah, cavolo no Mi conviene scappare E non fare altro Sbarare Uh, raggiungi Los Santos Bene ragazzi E questa è anche la missione di Michael Allora E a dirlo il vero C'è anche abbastanza tempo Per riuscire a fare, eh? Guarda se doveva piovere Proprio adesso Uh, la macchina non tiene Questa è una macchina Ok, ora Ok, ok La macchina non tiene Ma è che O余ade Questa è una macchina Questa è una macchina Questa è un'altra Chissà Chissà La macchina Questa è una macchina Ma Se fa Roberto Sì, quindi l'ho scoperto perché ci diceva uno si dimentica un sacco di cose al giorno E facciamo che ti dimentichi anche questa 3 km? Sì, dai, non c'è tanto Cosa il cavolo sta facendo? Gli vuoi rivedermi il video, per capire Mamma mia, Wade ragazzi Cosa? 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 Quindi, Micheal, questo è l'inizio che i morti tornano a vivere. Ci sono quasi 10 anni. Ma che dovrai guardare per un altro giorno, no? Voi, amico? Voi... 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 non ero ancora morti ero il mio migliore amico beh, guarda chi è venuto a s***** sul tuo dottore, tu s***** beh, io proprio non ho accorto a due ragazzi, la campetta ah ecco quindi sarebbe Trevor che sta raccontando della sua vita e magari, magari, troppo la nuca e tutto va bene fino a un giorno, proprio prima che aveva le sue vienze un s***** che, in charge delle evaluazioni psicologiche ha detto che era non stabile e l'ho affrontato per la vita questo è terribile è stato l'ho portato a una profonda profonda di dubbio e appunto, 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 appunto ha trovato una fatta, silvertongue trolla sotto un po' questo colo controllo è il nome Mike Michelle che caz*** mi ha portato un muscerino una musca negli occhi un po' 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 sinistra va bene bene ragazzi penso che ci fermiamo qui dai sali Trevor si si Non puoi restare qui. Come va, ragazzo? È stato un po' di tempo. Si, non ho mai visto l'ora che sei stato in Evelyn's bed. Un ragazzo che non avrebbe mai avuto. Tu devi andare, i due di voi. Ma donna? Mi bambina? Mi bambina, se mi sapeva che avevo avuto. Non c'è un bambina se non piace la tua famiglia. Ora, prendi me una f***ing drinka? Non ho chiesto di più! Oh, sì? Ok. Prendi... Non ho capito. Allora, andai fuori e f***ing mi qualcosa! Andai anche! Ok. Beh, io ho salvato un bel veicolo, proprio. Uh, dai che forse è finita la missione. Uh, bene, ragazzi. Proprio casca per nero. Ah, quindi non sono più in... Va bene, va bene. Eh, ragazzi. Sì. Mi sa che nella prossima puntata ci andiamo a fare questa bella M di Michael proprio. Guardate, già la segno. Niente. Da Adana è tutto. Ciao a tutti.